Harry Styles nel film di After, la richiesta della produzione After Film News, nel cast anche Harry Styles degli One Direction? La produzione pronta a fare richieste. Harry Styles sarà hardin nel film di After, trat dall'omonimo bestseller di Anna Todd. Il personaggio è ispirato proprio al cantante degli One Direction e molti lettori hanno chiesto a gran voce di vedere l'inglese sul grande schermo. Ora che il film è in fase di lavorazione e che le riprese cominceranno a marzo 2018, la produzione della pellicola sta facendo il possibile per avere Harry nel cast. A farlo sapere la produttrice Jennifer Gibgott su Instagram, che ha risposto ad una fan accanita. La donna ha rivelato che è pronta a tutto pur di avere stiles nei panni di Ardisco. Il grande amore di Tessa, ma la carriera musicale da solista di Harry è dintralcio. Da quando si è preso una pausa con gli 1D, Harry ha avuto un grande successo con l'album d'esordio e dalla scorsa primavera è in tour in giro per il mondo. Anche per il prossimo anno sono previsti numerosi concerti e girare un film sarebbe di troppo nell'agenda del ragazzo. Harry stiles troppo impegnato con la musica per pensare al cinema. Ci piacerebbe vedere Harry nel cast. Non possiamo fare altro che chiedere ha dichiarato la produttrice di After su social network. Al momento, però, le possibilità di vedere stiles come Ardyn sono piuttosto scarse. L'artista preferisce concentrarsi sulla musica e lasciare da parte il cinema, nonostante la buona interpretazione in Dunkirk di Christopher Nolan. Harry potrebbe però recitare un piccolo ruolo nella pellicola o, perché no, comporre e cantare la colonna sonora di After. Per la gioia di Anna Todd che proprio qualche mese fa ha confidato di volere uno degli One Direction tra i cantanti del film. Harry accetterà tale richiesta? After dovrebbe uscire, salvo cambiamenti o eventuali ritardi, nell'autunno del 2018. After film, chi sarà l'attore che farà Ardyn Scott?. Appurato il rifiuto di Daniel Sharman, la produzione sta ora cercando un attore giovane e dall'accento inglese per la parte di Ardyn Scott. Nell'ultimo periodo si è parlato della possibilità di vedere Bill Scarsgaard con Anello R.D. e Douglas Boat, ma è probabile che venga scelto un interprete poco conosciuto per dare maggiore credibilità e curiosità alla storia. . E Tessa invece? Pare che la parte sia già stata affidata all'australiana indiana Evans, da sempre la preferita di Anne Todd. Del resto l'autrice si è ispirata proprio alla bionda interprete per scrivere il personaggio di Tessa. .